Ha un significato molto importante, soprattutto dopo quello che sta succedendo un po' negli ultimi anni e credo che su temi come questi e in modo particolare per quanto riguarda il paesaggio sempre di più è necessario avere un'attenzione, una sensibilità, ma soprattutto riuscire a fare cultura. Trasmettere questi valori alle nuove generazioni, far capire loro l'importanza. Ecco quindi che in occasione di questa terza edizione di fare paesaggio, voluto dall'ingegner Giulio Andreoli che con tanta passione ha lavorato e ha garantito questo percorso ancora quando lui era in vita. Ancora di più dobbiamo onorare e lavorare per far sì che queste cose si possano sempre più concretizzare e nello stesso tempo valorizzare.